Per concludere farò un brano adesso di Liszt Wagner, diciamo. Quindi siamo nel Tardo Romanticismo, seconda metà dell'Ottocento. Richard Wagner ha composto opere teatrali, sia il libretto che la musica. Liszt si è occupato prevalentemente di opere pianistiche. Liszt, oltre alle innumerevoli composizioni che ha realizzato, ha anche preso uno o più temi tratti da queste opere teatrali potevano essere di Verdi, di Mozart, di Rossini e appunto di Wagner. E cosa faceva? Li sviluppava, li elaborava, insomma creava dei pezzi a sé stanti davvero originali. E quella che vi propongo stasera è appunto una parafrasi, perché è così che si chiama una composizione in questo modo, una parafrasi appunto sui temi del Rienzi. Il Rienzi è sostanzialmente il primo capolavoro di Wagner a cui Liszt ha dedicato una meravigliosa parafrasi. Grazie. 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 Grazie.